È di due morti il tragico bilancio delle ultime ore sulle strade della marca. A perdere la vita l'altra sera è stato un sessantenne di Spresiano, Livio Gionco, dipendente del comune di Cimadolmo, caduto dal suo scooter dopo il contatto con una bicicletta a Ponte dell'Apriula, nel comune di Susegana. Stamattina invece una 42enne di Altivole, Concetta Soligo, è stata sbalzata fuori dalla sua panda nello scontro frontale con un'altra macchina venuto lungo via Calderonna, Villa d'Asolo. La donna aveva accompagnato la figlia ad una gita e stava percorrendo la strada da San Vito di Altivole verso Asolo. A causa della violenza e dell'impatto con un Audi che viaggiava in direzione opposta, la donna è stata sbalzata dalla sua panda all'altezza di una curva ed è morta praticamente sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarla da parte del 118, sul posto per gli accertamenti la stradale di Vittorio Veneto. Per prassi la procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, anche se sarà da valutare la dinamica esatta prima di iscrivere qualcuno sul registro degli indagati. L'incidente di ieri sera è avvenuto poco prima delle 22 all'altezza di via Colonna verso Ponte della Priula. Il 60enne stava percorrendo la strada in sella al suo scooter quando per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri è entrato in collisione con la bicicletta di un 36enne del posto. Le condizioni del Centauro sono apparse subito gravissime e nonostante il tempestivo intervento del 118, è morto nella notte in ospedale a Treviso. Ferito lievemente, il 36enne è ricoverato a Conegliano. Anche in questo caso è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale, ma anche qui sarà da valutare il grado di responsabilità della persona deceduta.